La nostra piccola Candy è una cucciolotta di circa un anno, è una cagnolina dolcissima, veramente veramente molto buona, con tanta voglia di giocare. Lei cerca la sua casa, cerca una casa ricca d'amore, ricca di coccole, con tanta voglia di stare con lei, con tanta voglia di giocare con lei, non ha problemi con nessun tipo di altro essere vivente, che sia animale, che sia cane, che sia gatto, non ha nessun tipo di problema, ha solo voglia di giocare, voglia di coccole. Cerca una famiglia dove ci sono anche dei bambini, in quanto lei adora stare con i bambini, adora rincorrere le palline, adora fare le passeggiate, è uno spreco averla in un canile.